All'Università del Pireo, gli studenti del corso di politiche europee stanno sostenendo gli esami finali in questi giorni. Le loro scelte sono influenzate dalla situazione di incertezza in cui si trova il paese. Molti di loro pensano di andare all'estero per cercare lavoro, altri per continuare gli studi, ma le loro famiglie non possono sostenerne le spese. Ho scelto questo corso pensando di andare all'estero. In quest'ottica ho pianificato la mia vita per i prossimi anni, ma le cose sono cambiate e non posso più farlo perché il costo della vita sarebbe altissimo per noi. Quindi voglio esplorare se ci sono altre chance qui. Io sono preoccupato perché anche se lascio il paese ad agosto la mia famiglia rimarrà qui, quindi anche indirettamente sarò colpito da questa situazione di incertezza, principalmente dal punto di vista economico. Conto su di loro per poter finire gli studi. I giovani criticano sia le posizioni del governo, sia quelle dei partner della Grecia durante i negoziati. Molti di loro si stanno preparando a partire, altri hanno deciso di rimanere. In ogni caso tutti esprimono preoccupazione per come andranno i prossimi mesi. Apo di Nathena, Giro News, Faye Doulgeri.